Il paradiso delle signore, martedì 20 ottobre 2020. Visto lo straordinario successo del progetto di Laura, quest'ultima propone a Salvatore e Marcello di sfruttare l'occasione e di farle entrare in società con loro. Secondo la Venere è necessario trarre tutto il buono da questa esperienza. Marta conferma a tutti che ha preso la decisione di non partire per gli Stati Uniti. Vittorio decide di agire di conseguenza e le fa così trovare un biglietto per partire alla volta di New York. Di fronte a questo gesto di amore e generosità la signora Conti non può fare a meno di cambiare idea. Partirà e andrà oltre l'oceano trasferendosi in America per qualche tempo. Marta lo racconta subito a sua zia con grande entusiasmo. La zia Ernesta arriva da Cattaneo portando con sé la misteriosa Stefania Colombo, figlia di un cugino. La ragazza ha sempre nutrito una grande passione per la moda, cosa che la avvicina al paradiso delle signore ed è da molti anni segretamente innamorata di Federico. Luciano inizia a pensare alla possibilità di rimandare il suo addio e dopo aver consultato Clelia e suo figlio prende la decisione di rimandare tutto, almeno finché Ernesta non sarà andata via. Grazie. Grazie. Grazie.